Giamborno, Giamborno, Giamborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella mia reazione ai convocati di Roberto Mancini ho aspettato stavolta, ho voluto aspettare che ci fosse una quadra completa perché negli ultimi giorni veramente come sempre d'altronde si sono rotti tutti uno dopo l'altro però diciamo che stavolta era molto più importante aspettare e parlarne quando era il momento perché al di là di tutto non si poteva andare a parlare appunto di un giocatore che avrebbe fatto bene in nazionale che poi non avremmo visto in nazionale, questa volta è importante, si gioca domani credo la semifinale di National League e qualora dovessimo andarci in finale si giocherebbe anche domenica la finalissima di National League quindi le scelte di Roberto Mancini saranno fondamentali perché ci inseriranno in una sorta di mini torneo che vincere è molto importante perché vincere la National League significherebbe comunque portare a casa un altro trofeo che per quanto mi riguarda ha la sua importanza prima di iniziare come sempre vi invito ad iscrivervi in tantissimi qui sotto al canale mi raccomando iscrivetevi a lasciare anche tantissimi piaci qualora l'aveste già fatto per supportare questo video e lasciate tanti piaci se volete anche la mia opinione sugli altri convocati della National League ho visto che qualcosa di interessante c'è, si può parlare, però non lo so se lo farò intanto rifletto un secondo e vedo anche come va questo video fatemi sapere secondo voi chi manca di quelli che magari poteva invece convocare Roberto Mancini e io un paio di nomini ce li ho, partiamo però dai portieri come sempre in porta, lui ha portato Donnarumma, Meret e Sirigu io penso che su questo non ci siano grandi dubbi certo magari escono fuori i Perin per dire ma che Perin ovviamente ha fatto una partita con la Juventus e basta escono fuori gli altri portieri un po' minori ma comunque io credo che di base ci sia poco da dire Meret tra l'altro dovrebbe anche tornare prima o poi ad essere il portiere titolare a Napoli se no io riprendo sempre lo stesso discorso Meret lo voglio vedere solo se gioca titolare a Napoli se non gioca titolare a Napoli per me non merita la convocazione per il momento è giusto che ci sia ho visto che invece quel codice di Donnarumma è ma gioca poco a Parigi la storia qui è diversa cioè Meret non gioca al Paris Saint Germain Meret gioca al Napoli che poi è primo, le ha vinte tutte e va bene però Meret è più forte di Ospina Donnarumma ha 20 anni, si sta integrando eccetera Donnarumma diventerà titolare al Paris Saint Germain già ultimamente sta giocando ma diventerà titolare al Paris Saint Germain e quindi la convocazione ci sta per quanto riguarda la situazione Sirigu la convocazione ci sta anche perché è un uomo spogliatoio ma poi in generale perché a Genova non sta facendo male per niente è vero che il Genova subisce abbastanza ma Sirigu fa sempre delle ottime prestazioni quindi sotto questo punto di vista non si può dire nulla io penso che il trio dei portieri sia assolutamente diciamo lecito, assolutamente lecito per quanto riguarda i difensori centrali vengono portati Acerbi, Bastoni, Bonucci e Chiellini so 23 se non sbaglio i convocati quindi il numero era anche abbastanza ridotto e quindi sotto questo punto di vista comprendo la mancanza di Mancini però fatemi dire che un pochino mi dispiace per Mancini perché sono... è vero che Derby e Verona non ha fatto benissimo però è anche vero che sono anni che Mancini fa bene e con l'Atalanta e con la Roma che anche in fase realizzativa fa molto bene che in fase difensiva chiude praticamente qualunque cosa gli capiti a tiro quindi un pochino mi dispiace che non riesca mai a guadagnarsi la nazionale maggiore oggettivamente ragazzi è il futuro nel senso abbiamo Bastoni che verrà sempre convocato abbiamo Acerbi che continuerà ad essere convocato però Bonucci e Chiellini, Bonucci se non sbaglio ha 35 anni Chiellini ce ne avrà 38, non so quanti ne abbiano però più o meno è quella l'età credo che abbiano più o meno hanno più anni in meno e quindi per quanto riguarda Mancini probabilmente in futuro avrà anche il suo spazio ad oggi era importante convocare Bonucci, era importante convocare Chiellini li avrei convocati tutta la vita anche dinanzi al grande europeo che hanno fatto e quindi la loro convocazione è assolutamente lecita così come è lecita quella di Bastoni che sarà il titolare della nazionale in futuro sono contento anche di come lo stia dosando Mancini perché poi qualche interista si lamenta dicendo ma perché Bastoni non gioca mai? ragazzi perché se davanti c'è Bonucci e Chiellini che quando giocano in nazionale fanno i mostri è difficile pensare ad un Bastoni ad oggi titolare in nazionale probabilmente tra due anni, tre anni assolutamente sì ad oggi è difficile pensarlo e poi c'è Acerbi che... anche Acerbi ma come fai a lasciarlo fuori? non puoi lasciarlo fuori Acerbi anche all'europeo quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene ma poi al di là dell'europeo, del fatto che abbia sempre fatto bene eccetera Acerbi ragazzi è un giocatore che ti dà anche una sorta di leadership in campo è un giocatore che ha due attributi giganteschi che c'ha veramente la leadership dalla sua che c'ha assolutamente la quantità è un giocatore che secondo me non può rimanere fuori e poi anche un signore avete visto il post Instagram subito dopo con l'arbitro ha chiesto immediatamente scusa diciamo che ha rischiato di fare una mini caduta di stile ma si è ripreso subito per quanto invece riguarda i terzini ci sono Di Lorenzo, Palmieri e Calabria allora noterete immediatamente che manca Spinazzola perché è rotto manca anche Di Marco in questa lista però in realtà Di Marco alla fine è stato arruolato è stato chiamato al posto di Pessina apriremo una parentesi a centrocampo su questo perché è la parentesi più importante due sono le parentesi da aprire secondo me tra i convocati di Mancini che mi hanno un pochino lasciato a bocca aperta però comunque ne parliamo per quanto riguarda i terzini Di Lorenzo non puoi lasciarlo fuori in questo momento anche perché protagonista anche lui dell'europeo ma su Di Lorenzo e su Palmieri c'è poco da dire lo sapevamo una a destra e una a sinistra assolutamente presenti va bene la convocazione di Calabria ci sta, se la meritava dopo tanto se la meritava assolutamente quindi sono contento per lui che sia partito anche se comunque se posso essere sincero stento a comprendere a meno che non ci siano infortuni di cui non sono a conoscenza della mancanza di Manuel Lazzari perché comunque adesso sta giocando anche terzino basso con Sarri alla Lazio quindi mi sembra il minimo in questo momento partecipare alle convocazioni e mi sembra veramente strano che non ci sia Florenzi invece è rotto si è dovuto operare ma comunque Florenzi non è che stia facendo benissimo a Milano anche se poi comunque ripeto è rotto la convocazione di Di Marco è assolutamente meritata Di Marco si sta prendendo l'Inter partendo dal basso si sta prendendo l'Inter e quindi sono curioso anche di quello che farà magari probabilmente giocherà poco quel nazionale credo che con la Spagna giocherà Di Lorenzo a destra credo e Palmieri a sinistra quindi andrà un pochino sull'usato sicuro sui giocatori che ha già provato però sono curioso anche di vedere Calabria e Di Marco che sono i giocatori che entrano adesso e che volendo potrebbero anche far bene tra i panchinari per quanto invece riguarda il discorso centrocampisti centrali eccoli qua Niccolò Barella Brian Cristante Giorginio Locatelli Pellegrini Verratti madonna mia che centrocampo che abbiamo ragazzi mamma mia che centrocampo ma stiamo scherzando abbiamo un centrocampo di all star allora Barella Giorginio e Verratti giustamente non si toccano sono i super titolari e qui c'è poco da dire giocheranno loro giocheranno sempre loro è impossibile è impossibile toglierli eccetera ma più o meno ha portato quelli dell'europeo c'era Locatelli che comunque si sta anche prendendo la Juventus quindi l'esclusione di Locatelli era praticamente impensabile c'era Cristante che zitto zitto è anche titolare a Roma sta facendo una stagione di alti e bassi ma comunque molto molto buona quindi anche su anche su Barella anche su Barella anche su Cristante c'ho poco da dire la convocazione secondo me è assolutamente di tutto rispetto comunque il più scarso di questi è quello che giocherà probabilmente bene poi ad oggi ragazzi non vogliamo nemmeno metterci penso a parlare della convocazione di Lorenzo Pellegrini visto che Pellegrini sta trascinando la Roma ed è l'unico a centrocampo che trascina proprio nel modo più pesante la Roma quindi sotto questo punto di vista penso che si possa dire poco 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 detto questo però c'è una mancanza grave che è quella a mio modo di vedere di di Tonali e io mi domando ma possibile mai che Tonali non sia stato convocato cioè allora io capisco che numericamente parlando magari il centrocampo era già a posto perché avevamo tanti nomi in mezzo al campo dall'altra parte però vi dico ma santo cielo ma tu avevi Pessina ti si è fatto male Pessina quindi Pessina non giocherà e tu prima di prendere prima hai chiamato Zaniolo parleremo anche di Zaniolo non c'è Zaniolo hai chiamato Di Marco piuttosto che chiamare Tonali ora sto leggendo che si dice che è perché Tonali serve all'under 21 ragazzi ma l'under 21 è un trampolino di lancio l'under 21 serve per farsi vedere e per fare quel passo intermedio tra niente o under 18 19 eccetera la nazionale maggiore se tu sei un giocatore già da nazionale maggiore sinceramente non puoi continuare a giocare in under 21 poi ci fosse l'europeo under 21 oggi ti direi c'hai ragione ma visto che la Nations League è la cosa più importante al momento e visto che Tonali sta facendo una stagione pazzesca perché ad oggi non c'è Chessi che tenga non c'è Bennazer che tenga non c'è Bagaiuco che tenga il giocatore che sta facendo meglio al centrocampo del Milan è Tonali ma come cazzo è possibile che Tonali non abbia ancora un'opportunità poi sia chiaro Mancini può fare quello che gli pare ci ha vinto l'europeo e quindi nel senso le scelte le fa lui e sono sempre giuste azzeccate va bene così però comunque io penso che Tonali avrebbe meritato uno spazio in questa nazionale per come è partito poi magari che ne so tra tre mesi niente nel senso magari continuano a ricominciare a fare quello che faceva lo scorso anno quindi nulla e quindi ricrolla nell'anonimato però ad oggi ad oggi secondo me la meritava poi ovviamente ognuno fa le proprie scelte e non ho capito sinceramente la sua esclusione soprattutto dopo l'infortunio di Pessina ve l'avrei già chiamato prima dell'infortunio di Pessina però prima dell'infortunio di Pessina già ci stava perché comunque tu hai convocato solamente i giocatori che erano già facente parte della nazionale all'europeo l'unico che non lo era era Pellegrini e Pellegrini che comunque lo è perché comunque Pellegrini era stato convocato ma se era fatto male non era partito per questo oggi Pellegrini ragazzi devi portarlo per forza però dopo l'infortunio di Pessina ma aspettavo di vederlo ma proprio me l'aspettavo ad occhi chiusi e poi il discorso allora Ali parliamo prima delle Ali e poi parliamo dei centri avanti Ali, Berardi, Bernardeschi Chiesa, Insigne premessa Berardi c'era all'europeo ha fatto anche abbastanza bene Bernardeschi c'era all'europeo ed è un fedelissimo di Roberto Mancini Chiesa vabbè Chiesa ragazzi adesso è uno dei migliori dei migliori al mondo nel suo ruolo c'è poco da di su Chiesa e Insigne è il nostro leader il nostro trascinatore quindi assolutamente sì però mi domando e dico no poi magari io sarò strano io ma veramente Zaniolo non poteva rientrare in questa squadra e attenzione attenzione perché qualcuno dirà eh dopo l'esclusione di Pessina è stato chiamato Zaniolo ma veramente Zaniolo non poteva entrare a prescindere in questa squadra Mancini si è un po' difeso dicendo non è per il gesto fatico fatico a credere che Mancini non lo abbia lo abbia escluso non per il gesto non è cattiveria non ne parlo perché è della Roma non me ne frega niente mi sono lamentato di Tonali poco fa mi lamento di Zaniolo adesso credo che Zaniolo e Tonali poi Zaniolo non ha accettato la convocazione per un infortunio però già non era stato convocato un fastidio però non era già stato convocato però non comprendo perché credo che Tonali e Zaniolo siano la nuova guardia e c'è bisogno di loro c'è assolutamente bisogno di loro in questo momento cioè io penso raga che Zaniolo sarebbe partito per la nazionale all'europeo se non si fosse rotto se non avesse avuto tutti i problemi poi era tornato appena in tempo ma era giusto non convocarli in quel momento perché non avendo mai giocato c'era una marea di gente che lo meritava di più ma questo assolutamente alzo le mani e non c'è altro da dire però veramente Zaniolo non viene non viene reso partecipe della lista di primi convocati da Mancini ancora nonostante sia tornato a pieno regime nonostante sia facendo benissimo concludiamo con i centravanti che sono Ken e Raspadori questo ci abbiamo ragazzi nel senso immobile e belotti sono rotti Raspadori a Sassuolo sta facendo bene Ken con la Juventus non sta facendo bene non sta facendo un cazzo sostanzialmente però comunque è sempre stato convocato e ci sta la cosa positiva è che abbiamo tutti attaccanti che possono anche giocare sulle due fasce però forse avrei portato Scamacca sentite che vi dico forse al posto di Ken o tanto Ken non è stato nemmeno convocato all'europeo quindi nemmeno quella scusa lì c'hai alla Juventus non è che stia brillando di luce propria forse avrei portato avrei portato Scamacca perché almeno aveva una punta di ruolo un giocatore che si mette lì davanti e che fa sportellate invece se con la Spagna dovessimo aver bisogno di un attaccante che fa salire la squadra in questa lista l'attaccante non c'è quindi questo abbiamo a disposizione non vediamo Scamacca ragazzi immobile e belotti sono rotti dovevamo prendere delle decisioni e queste decisioni abbiamo preso io piuttosto che Ken avrei chiamato tutta la vita Scamacca poi ovviamente ognuno la pensa come preferisce questo ragazzi era il mio punto di vista anche un po' troppo lungo a dire la verità fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto io vi ringrazio per aver visto questo video vi ricordo che ho altri due canali uno di FIFA dove ogni giorno alle 15.30 c'è un contenuto nuovo uno invece parallelo a questo sempre di calcio in cui parliamo di calcio e oggi parleremo di calcio indovinate un po' di calcio grazie buo ciao all'alline come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao grazie a tutti